Sto bene, è un periodo che mi sento bene, chi non gioca sta bene lo stesso perché comunque mi sa sempre notare, è normale che adesso dopo alcune prestazioni andare a cambiare qualcuno magari non rischioso perché ha finito il gioco al gioco, però magari di non fermare la squadra è una cosa un po' più normale. Spero di continuare così, riguarda gli anni della fiducia per questa che comunque mi ha dimostrato già in variate volte, anche in anni addievi e spero che rimanga così in questo rapporto. È una squadra che teniva comunque da un periodo difficile, quindi non hanno l'equilibrio in questo momento. Però è una squadra, sicuramente è una buona squadra, i giocatori adatti alla categoria, hanno sempre fatto una categoria, quindi c'è una partita difficile anche anche loro in casa sembra che sono una buona squadra. Grazie. 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 Grazie.